Anastasia Romanov, la principessa sopravvissuta. Anastasia Nikolaevna Romanova, nata a Piterov il 18 giugno 1901, fu la quarta figlia e seconda più giovane del Ciar Nikola II della Russia e della Ciarina Alexandra Feodorovna. Era la sorella minore delle granduchesse Olga, Tatiana e Maria, e la sorella maggiore del Zarevich Alexei Nikolevich. Anastasia era una ragazza vivace e piena di energia. Era conosciuta per la sua risata contagiosa e per il suo amore per la musica e la danza. Era anche una grande appassionata di fotografia e spesso portava con sé una Kodak Brownie No 2. Anastasia crebbe in un ambiente privilegiato, ma la sua vita cambiò radicalmente nel 1917, quando la rivoluzione russa rovesciò la monarchia. La famiglia Romanov fu arrestata e imprigionata a Zarsko e Selo. Nel 1918, la famiglia fu trasferita a Ekaterinburg, dove fu giustiziata dai bolshevichi il 17 luglio. La morte di Anastasia fu confermata da diversi testimoni oculari, ma nel corso dei decenni sono comparse numerose persone che hanno affermato di essere lei. La più famosa di queste Anastasiei fu Anne Anderson, che sosteneva di essere sopravvissuta alla sparatoria e di essere stata scambiata con un'altra donna. La storia di Anne Anderson ha affascinato il mondo per molti anni, ma alla fine è stata smentita da prove scientifiche. Nonostante la sua morte prematura, Anastasia Romanov è ancora una figura iconica. La sua storia è stata raccontata in numerosi libri, film e opere teatrali. È diventata un simbolo della tragedia della rivoluzione russa e della perdita dell'infanzia. La vita di Anastasia. Anastasia trascorse la sua infanzia nel palazzo di Alessandro a Zarsko e Selo, una sontuosa residenza estiva situata a 30 chilometri da San Pietroburgo. Era una bambina vivace e curiosa, e amava trascorrere il tempo con le sue sorelle e i suoi fratelli. Anastasia ricevette un'istruzione privata, concentrata sulle materie umanistiche. Imparò a parlare inglese, francese, tedesco e russo. Era anche una musicista talentuosa, e suonava il pianoforte e il violino. Anastasia era una ragazza molto amata dalla sua famiglia. Era la più piccola dei figli di Nicola II e Alexandra, e veniva spesso chiamata la nostra piccola Nastenka. Era anche molto popolare tra il popolo russo, che la vedeva come un simbolo di speranza e di futuro. La caduta della monarchia. Nel 1917, la rivoluzione russa rovesciò la monarchia russa. La famiglia Romanov fu arrestata e imprigionata a Zarsko e Selo. Nel marzo 1918, la famiglia fu trasferita a Ekaterinburg, una città industriale situata nella parte sudorientale della Russia. A Ekaterinburg, la famiglia Romanov fu tenuta prigioniera in una casa chiamata Casa Ipatevù. Le condizioni di vita erano difficili, e la famiglia era sorvegliata costantemente dai bolscevichi. L'esecuzione. Il 17 luglio 1918, la famiglia Romanov fu giustiziata dai bolscevichi. Le vittime furono uccise con fucci e pistole. I loro corpi furono gettati in una miniera di acido solforico, e le loro spoglie non furono mai ritrovate. La morte di Anastasia fu confermata da diversi testimoni oculari. Tuttavia, nel corso dei decenni sono comparse numerose persone che hanno affermato di essere lei. La più famosa di queste Anastasiei fu Anne Anderson, che sosteneva di essere sopravvissuta alla sparatoria e di essere stata scambiata con un'altra donna. La storia di Anne Anderson ha affascinato il mondo per molti anni. È stata oggetto di numerosi libri, film e opere teatrali. Alla fine, però, la sua storia è stata smentita da prove scientifiche. L'eredità di Anastasia punto nonostante la sua morte prematura. Anastasia Romanov è ancora una figura iconica. La sua storia è stata raccontata in numerosi libri, film e opere teatrali. È diventata un simbolo della tragedia della rivoluzione russa e della perdita dell'infanzia. Anastasia è spesso rappresentata come una ragazza innocente e vulnerabile, che è stata vittima di circostanze tragiche. La sua storia è a un monito contro la violenza. Grazie a tutti.